Penso ai treni dell'avvenire, penso alla gente felice, penso alla terra che si stende intorno alla strada ferrata, a una terra non inquinata. Ok, per da nessuno le canto, penso alla chi fa. Nei mondo dipenden, lefante di Bilal si deepa. L'говirre 경우에는 personaggi, Everyone dipenden, pensate alla gente che fa. E solo a quando tutti potranno viaggiare su treni comodi, silenziosi, veloci, allora si potrà ascoltare il rumore del treno, come una musica. Grazie a tutti.